bentornati carissimi qui sul canale un caldissimo canale del dottor sedrei benvenuti a questo primo video estivo dopo il primo scandalistico dalla croazia e ho deciso di fare questa serie estiva da accompagnare ad eventuali filo in fondo uno mi è anche stato richiesto quindi probabilmente lo faremo all'interno dei quali vi parlo di alcuni libri tendenzialmente filosofici che vanno bene da leggere sotto l'ombrellone cercherei quindi di tenere questi video piuttosto brevi in quanto si tratta di varie proposte di lettura mi piacerebbe che questa cosa fosse anche in una doppia direzione ovvero se voi aveste qualche libro di carattere filosofico ma anche romanzi che però abbiano un immaginario filosofico da proporre di cui parlare in questa serie scrivetemelo nei commenti così che io magari nelle mie prossime avventure sotto gli ombrelloni possa approfondire queste letture possa gettarmi in queste letture come paperon de paperoni nei suoi dollari ma per tornare al fulcro della questione di questo video in particolare vi parlo di un libro che mi ha colpito tantissimo ovvero sapiens di harari vorrei avere il libro qui con me ma purtroppo siccome mi è piaciuto così tanto non solo ne ho comprato una versione fisica per me ma questa versione fisica l'ho prestata ai miei genitori che però dovrebbero stare facendo da valletti in questo momento e ne ho anche consigliato l'acquisto alle mie sorelle con le quali ero in vacanza dunque direi che in un certo senso mi ha colpito abbastanza da poter invitare la gente a leggere questo testo ed è un libro che mi sono sentito riconsigliare così tanto in quanto è pazzescamente ricco di filosofia vera e propria al suo interno non di storia della filosofia ma di filosofia all'interno di un testo che si pone però come un testo di storia ora non è una storia per come la studiamo a scuola nel senso cronologico dei vari avvenimenti ma è una storia molto ragionata quella che propone Rari in questo testo divulgativo di sì 500 pagine ma 500 pagine leggibilissime in pratica la storia che prende in considerazione come viene scritto anche nel sottotitolo del testo è la storia dell'uomo una breve storia dell'uomo da intendersi come Homo Sapiens quindi è la storia di come noi abbiamo approcciato questo pianeta di quali sono le fasi che fino ad oggi abbiamo attraversato quelle che Rari ritiene le più significative e l'esito che quelle fasi hanno portato ovvero il presente in cui viviamo il testo quindi considera le varie fasi di sviluppo che l'uomo ha avuto e quali siano gli elementi che più hanno contraddistinto la nostra specie nel suo cammino su questo pianeta tre sono le rivoluzioni principali che prende in considerazione Rari quella cognitiva quella agricola e quella industriale e su intorno a queste tre costruisce il ragionamento scientifico ovvero di come la scienza ad oggi ritiene che le cose siano andate per quanto riguarda l'essere umano sulla terra il grande pregio del libro di Rari è che riesce a ordinare lo stato dell'arte della considerazione scientifica sull'uomo quindi individuare quali siano le fasi più importanti della nostra vita quando ci siamo evoluti in che momenti ci siamo spostati quali sono stati gli elementi che hanno portato alle nostre evoluzioni alle rivoluzioni di cui parla il filosofo israeliano ad esempio la rivoluzione cognitiva che viene indicata come anche la più problematica per quanto riguarda i problemi di carattere scientifico che in un certo senso vengono sottolineati da persone molto più competenti di me a riguardo che io infatti l'ho letto in quel senso come mero ricevitore vi invito a guardare il video di Entropy for Life che ho guardato io dopo aver letto il libro perché va a sottolineare alcune problematiche appunto di carattere prettamente scientifico che io onestamente non conosco così bene detto ciò le critiche non sono mai riguardanti la non giustezza di ciò che viene detto all'interno del libro ma della predilezione per determinati tipi di teorie rispetto ad altre che comunque sono tra le più accreditate ora gli elementi filosofici che vengono introdotti da Harari sono estremamente interessanti e utilissime anche per fare filosofia oggi avere in mente determinati tipi di assunti riguardo al mondo è per me fondamentale per ogni sapiens quindi io vi invito fortissimamente a leggere questo testo lo ritengo perfetto da essere letto sotto l'ombrellone in quanto se da una parte è sicuramente un testo che porta informazioni quindi informativo che potrebbe quindi essere un po' allontanante dal punto di vista di colui che vuole semplicemente prendere il sole al mare dall'altra il testo è scritto benissimo riordina benissimo tutti gli avvenimenti gli avvenimenti di cui parla sono talmente interessanti che per quanto mi riguarda è stato quasi impossibile smettere di leggere ho avuto veramente un interesse fortissimo per quello che mi veniva detto e soprattutto sono vari la cosa buona è che unisce tantissime categorie di pensiero certo l'ottica è quella filosofica ma al contempo prende informazioni di carattere biologico di carattere antropologico sociologico storico scientifico in generale mi sento ridire anche tecnologico nei confronti del mondo in cui viviamo e le mette insieme riunendole in un cammino che io ho trovato clamoroso e per questo non posso fare altro che dare 9 ombrelloni su 10 al testo sapiens di arare come librone sotto l'ombrellone ora a prescindere dal fatto che mi dovete dire se odiate o meno la questione del numero di ombrelloni come votazione che è lecitissimo che sia oscena ma vedremo cosa cosa viene detto nei commenti se aveste qualche altro libro appunto che voleste sentire valutato in un certo senso come librone da ombrellone scrivetemelo nei commenti e come al solito non posso fare altro che invitarvi iscrivervi al canale lasciare un commento mi piace eccetera eccetera e io non posso fare altro che augurarvi una buona giornata